salve a tutti voglio fare ancora parlare di maxallega perché mi è venuta adesso proprio a me in mente in mente un'idea cioè un'idea alcuni mi potrebbero dire anche perché ho sbagliato non è miric che ha detto a di maria è stato di maria cadetta miric perché quello ti ha tolto e quella risposta perché pazzo insomma è stata una scena a del poco vergognosa ma molti potrebbero dire troviamo un accordo con la risoluzione e lo mandiamo a fangulo potrebbe anche essere ma scordatevelo che quello rinuncia a quei 9 milioni perché ribadisco è attaccato alla plata come pochi esseri sulla faccia della terra come tutte le persone anche spalletti ha fatto questo schifo quando è stato mandato via dall'inter non ha rinunciato a un centesimo così come sarri quando è stato mandato via non ha rinunciato a un centesimo quindi scordatevelo alla buona uscita perché adesso me ne sono ricordato infatti quest'altro video è lo schifo di allegri parte seconda perché molti ho sentito già ieri ma mandiamogli la buona uscita a 3 milioni scordatevelo che quello sa contenta di 3 milioni vuole tutti e 9 per continuare a divertirsi a femmine vita privata è liberissimo di farlo perché sapete che allegri ha una vita privata che molti di noi sognerebbero però però vuole la plata e quindi non si accontenta di una buona uscita che non sia sostanziosa cioè se non è 9 almeno 7 almeno 6 quindi dello schifo di allegri parli di una grande fatica a liberarne specie se ci riuscite che ribadisco cosa ho detto prima quelli stanno pensando siccome allegri è sempre partito a cazzo dovunque stava pur a cagliari ha rischiato la bip perdendo cinque partite consecutive poi durante l'anno riesce a quagliare a vincere un filotto di partite anche giocando di merda ma i risultati comunque li porta a casa e alla juve qualcosa vince se riesce a svoltare se riesce a raddrizzare se riesce a fare un filotto e quindi può salvarsi dall'esonero cioè non lo cacciano per risparmiare perché so come dicono molti che ai piani alti sto schifo non va più bene però se il monza domenica che appena cambiato allenatore diventa il barcellona allora bisogna fare la scelta estrema che tutti vogliono evitare arriva bene agnelli tutta la vostra combriccola di società per amici come la chiamata luca totti e io non mi non mi non mi non mi non mi non mi permetto di contestare quello che dicono altri di altre squadre come altri non voglio che contestino quello che dico della mia e chiedo scusa se mi è scappata sta cosa ma mi ha fatto merda a ridere ma non vi liberate di quello schifo perché quelli stanno forse pensando che questo prima o poi qualche filotto visto che è sempre partito al cazzo nella sua storia prima o poi lo riesce a fare e qualcosa si porta a casa la coppa italia la qualificazione c'è insomma il minimo sindacale o magari un campionato perché pioli inzaghi glielo buttano in mano e poi li mandiamo a casa noi noi altri che se perché se pioli inzaghi non vincono questo camionato le o non vincono niente li mandiamo a casa per ti chiusa parentesi ma quindi quello pensano insomma questo prima o poi qualcosa arrangia e ci salviamo dalla bancarotta fraude dalla bancarotta capito questo è succo perché quello di una buona uscita a sconto ve lo scordate ve lo scordate che quello è attaccato alla plata come tutti quanti e non rinuncerà mai ribadisco si fa pagare per restare a spasso e non si dimette per non rinunciare a quei bei soldini non rinuncerà mai alla plata per questo o lo cacci e lo mandi a fanculo e gli paghi tutto fino all'ultimo sen oppure te lo devi tenere ma io non lo so immaginare come Gianni Bianco Luca Totti arrivano a fine campionato con quello perché anche se vince ti fa schifare quello quando 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 stava da noi ribadisco io non voglio ricordare lo schifo di tutti e Manuel sono tutto campista ma quando 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 abbiamo vinto il campionato noi con lui è stato comunque un'immondizia ci schifavamo e così come Gianni Bianco si schifava anche con Tevez Pogba Marchisio e Pirlo la verità è capito avete vinto gli scudetti finalmente ve ne siete accorti perché gli altri non c'erano noi eravamo in mezzo allo schifo di Cerci di Inzaghi di Mialovic di Brocchi altro schifo anche se Mialovic con noi ha fatto bene ed è stato esonerato allo schifo di Berlusconi perché gli ha fatto giocare Donnarumma quando lui non voleva e gliel'ha fatta pagare a sei giornate dalla fine insomma avete vinto il campionato e lui lo stava anche perdendo perché Napoli l'ha perso nell'hotel per lo schifo di Pjanic eh che non è stato espulso e poi a Rebic due anni dopo li tornarono alla vista e lo mandarono fuori per la stessa cosa in Coppa Italia e vi hanno regalato una Coppa Italia così come Allaia l'ha fatto con l'Inter che hanno fatto ogni schifo possibile immaginabile per fargli vincere la Coppa Italia contro il Milan sempre il Milan vede schifo in Coppa Italia per far vincere Juventus e Inter questo lo dobbiamo ricordare ma ribadisco non vi liberate di quello schifo perché anche con la buona uscita quello la vuole sostanziosa quindi meno di sei non si accontenta ne prende nove cioè per per levarvi di mezzo quella quella zavorra vi dovete svenare o ve lo dovete sopportare non c'è una via di mezzo e vomitate schifo tutto l'anno e noi siamo contenti ma ribadisco io più quello sta e più posso sognare la seconda stella perché io vi rispetto mi piace la rivalità con la Juve e il superclassico ma io parto nettamente avvantaggiato e più schiattato che io con una rosa nettamente inferiore io gioco a volte meglio di Inter e Juventus ho giocato meglio di cose di di rose strapagate per le stronzate di Inzaghi e per il non gioco di Allegri io sono campione d'Italia io ringrazio il Dio perché tra le stronzate di Inzaghi noi abbiamo i nostri meriti perché siamo stati più gruppo e abbiamo nel gruppo nei tifosi e nel gioco le nostre forze anche se piole ogni tanto qualche stronzata me la combina però l'ho detto nel video prima io se fossi nel Milan io e anche lui qualcosa in più glielo darei o glielo chiederei perché se quello prende nove io gioco a pallone e mi danno due e mezzo non per guardare nell'orto del vicino che dico sempre che l'erba del vicino è quella più è quella più di solito dicono che è più buona ma in questo caso fa schifo e gli danno di più di me cioè lì è la cosa inconcepibile inconcepibile per carità io qualcosa in più a Stefano Piori glielo darei ma gliel'hanno data spero che gli hanno alzato un po' il contratto perché ribadisco di quella zavorra e andiamo non ve ne liberate perché anche mi sono ricordato perché nel video di prima non l'ho detto ma anche con la buona uscita quello la vuole sostanziosa lui deve andare a divertirsi deve andare a fare la sua vita che è molto abbiente, vacanze, donne, cene, ma vita privata non si discute per carità ognuno con i soldi fa quello che vuole però è sostanziosa la vita che fa lei sapete che è un voglia, gli piace la bella vita, le macchine, le donne, una le lascia e una le piglia insomma sono cose personali ma gli piacciono come piacciono a tutti lo faremo tutti però lui lo fa perché è sempre stato uno insomma che gli piaceva la bella vita quindi non vi liberate tanto facilmente la zavorra allegri ci facciamo la buona uscita, risparmiare e ce lo leviamo dalle palle scordatevelo, scordatevelo, quello vi fa svenare fino all'ultima goccia di sangue perché dopo l'inizio è contenzioso e sono dolori di panza avvocati, schifo, lei lotta per la buona uscita perciò lo sopportano, dicendo tanto questo prima o poi qualcosa arrangia poi magari alla fine lo mandiamo via lo stesso vinciamo qualcosa e in finale di Champions ci arriviamo poi la perdiamo ma almeno salviamo capre e cavoli e questo è il loro ragionamento perché se Pioli, Ribarisco e Inzaghi non vincono allo scudetto li mandiamo a casa con la Juve più imbarazzante degli ultimi anni in mano a mister non gioco perché noi giochiamo e in teoria dovremmo riuscire a quagliare a vincere qualcosa ma se moglie a Dio la Juve vince il campionato con Allegri in panca che gioca il calcio più scandaloso del mondo peggio di Simeone che fa schifo proprio che non si può quei due vanno a casa perché li riempiamo di schifo questo è da premettere perché se non vinciamo niente Pioli e Inzaghi vanno a casa che se quello là o il Napoli vincono il campionato vanno a casa perché le rosse ce l'hanno Pioli è stato accontentato negli acquisti e non giocano ma chiudendo il succo hashtag buona uscita sostanziosa non ve la scambate non ve la scambate con quello cioè con quello comunque vada sarà un fracasso sia se resta che vomitate schifo magari vingete e vomitate schifo perché gioca di merda se lo licenziate o peggio ancora se lo volete esonerare con una buona uscita quello vi fa svenà quello vi fa svenà quello vi fa svenà fino all'ultima goccia di sangue e vi sputtana perché poi se la Juve va male quello magari va in televisione e vi sputtana perché il problema non ero io che quello è talmente stupido è talmente strano che dice il contrario dice il problema non ero io visto perché poi lo chiamano in televisione visto che hanno chiamato Capello chiamano tanti allenatori senza panca Sky subito lo chiappa per fare per schioccare altri soldi e per fagare magari l'opinionista se cambiate allenatore e il nuovo allenatore va male quello vi sputtana capito? cioè non vi liberate della zavorra allegra è un incubo io voglio io ringrazio Dio di non essere in quella situazione perché sennò mi trae schifo tutti i santi giorni come fa Luca Totti come fa Gianni Bianco che sono letteralmente disgustati e schifati e inorriditi ma noi l'abbiamo vissuto dieci anni fa quando Ibrahimo ci ha dato del cacasotto quando siamo letteralmente cacati in mano col Tottenham e siamo andati fuori dalla Champions con un risultato favorevole all'andata lui si è cagato in mano e il Tottenham ha mai passato il turno cioè noi di schifo ne abbiamo visto a bizzeffe ne abbiamo visto a bizzeffe e ringraziamo Dio che almeno con Pioli vediamo il gioco poi anche lui ha i suoi difetti così come Simoninzaghi però ribadisco preferisco andare avanti con loro oppure trovarmi uno servicengo trovarmi qualcuno dei miei no Gunz no Abate eh però se magari dovesse andare male ma lui proprio no Allegri se rimane a spasso stavolta non so chi cazzo gli affida una panchina forse Berlusconi impreda a una a qualche problema di altre nature perché quello schifo cioè non so chi lo prende ma voi hashtag non vi liberate della zavorra lei ciao a tutti